In questa lezione concluderemo l'argomento prospettiva, a cui abbiamo dedicato le ultime undici precedenti lezioni di questo canale YouTube e di cui vi fornisco una breve panoramica. L'argomento di questa lezione è la rappresentazione prospettica o semplicemente prospettiva a quadro verticale dei solidi. Finora abbiamo infatti sempre parlato della rappresentazione prospettica delle figure piane, ma ci manca di trattare adesso le figure solide, le quali, a differenza delle figure piane, possiedono non due ma ben tre dimensioni. Supponiamo dunque di voler rappresentare in prospettiva un parallelepipedo, di cui conosciamo tutte le misure attraverso le sue proiezioni ortogonali. Ma, capito il metodo, esso può essere applicato a qualunque altro tipo di solido. Una volta piazzati sulla nostra tavola da disegno tutti gli elementi della prospettiva, linea di terra, linea dell'orizzonte, punto di vista e punto di stazione, si procede innanzitutto a determinare l'immagine prospettica della base inferiore del solido, che immagineremo sempre poggiante sul piano di terra. Sappiamo che per rappresentare in prospettiva una figura piana, e quindi la base inferiore del nostro parallelepipedo, esistono ben cinque tecniche, e questo indipendentemente dal fatto che la nostra prospettiva sia centrale oppure accidentale. Il metodo del taglio o dei raggi visuali, il metodo dei punti di distanza, il metodo dei punti di fuga, il metodo dei punti misuratori, il metodo dell'omologia. In questo esempio abbiamo disegnato la base inferiore del parallelepipedo utilizzando il metodo dei punti di fuga, ma avremmo potuto scegliere a piacere qualunque altra tecnica tra le cinque che abbiamo appena elencato. L'immagine prospettica della base inferiore del parallelepipedo è di fatto anche l'immagine prospettica a quota 0, cioè sul piano di terra, dei punti della base superiore. Quindi ogni volta che dovremo determinare l'immagine prospettica di un punto che non si trova a quota 0, cioè sul piano di terra, dovremo sempre determinarne prima l'immagine prospettica a quota 0 e poi dovremo, come si suol dire, portare in altezza il punto. Se per rappresentare l'immagine prospettica a quota 0 di un punto esistono ben cinque tecniche, per portarlo in altezza ne esiste invece una sola. Vediamo in che cosa consiste. Disegnata l'immagine prospettica della base inferiore del nostro parallelepipedo, dobbiamo a questo punto portare in altezza i punti della base superiore, che a quota 0 corrispondono a quelli della base inferiore. Detto più semplicemente, dobbiamo disegnare la visione prospettica della base superiore, la quale, differentemente dalla base inferiore, non si trova sul piano di terra, ma ad una certa altezza. Tale altezza ci è nota grazie alle proiezioni ortogonali del parallelepipedo. Gli spigoli verticali della figura lo restano anche in prospettiva, se la prospettiva è, come nel nostro caso, a quadro verticale. Ma nella prospettiva le loro dimensioni vengono alterate e quindi non sappiamo dove far terminare gli spigoli. Ora, il punto A è un punto unito, cioè situato sulla linea di terra. Questo significa che si trova sia sul piano di terra, cioè sul PO, sia sul quadro prospettico, cioè il PV. Quindi sul quadro prospettico si trova anche lo spigolo AE, che trovandosi sul quadro conserva la sua reale misura anche in prospettiva. Se quindi da A star, immagine prospettica del punto A, tracciamo una linea verticale della stessa misura dell'altezza del parallelepipedo, otterremo E star, che è la rappresentazione prospettica del punto E. Lo spigolo A star E star è quindi uno spigolo in vera grandezza. Esso prende il nome di spigolo delle altezze, perché le altezze di tutti gli altri segmenti verticali verranno determinate in prospettiva a partire da questo. Trovata la posizione di E star, determiniamo adesso la posizione di F star. F2 è il punto di fuga del segmento FE, che infatti è parallelo al segmento AB, sebbene posizionato su un altro piano orizzontale. In prospettiva questo segmento deve pertanto convergere verso F2, proprio come A star B star. Questo significa che F star si trova da qualche parte sulla retta che congiunge E star ad F2. Ma F star, immagine prospettica del punto F, si trova anche sulla verticale condotta da B star, dal momento che lo spigolo BF è uno spigolo verticale. Quindi l'intersezione tra questa retta e quella precedente determina la posizione di F star, immagine prospettica del punto F. Un ragionamento identico viene fatto per trovare il punto G star. Poiché F1 è il punto di fuga del segmento FG, che infatti è parallelo al segmento BC, sebbene posizionato su un altro piano orizzontale, in prospettiva questo segmento deve convergere verso F1. Questo significa che G star si trova da qualche parte sulla retta che congiunge F star ad F1. Ma il punto G star si trova anche sulla verticale condotta da C star. Quindi l'intersezione tra questa retta e quella precedente determina la posizione di G star, immagine prospettica del punto G. Il punto H star sarà determinato di conseguenza, dal momento che esso si troverà sull'intersezione tra la retta che congiunge E star con F1, punto di fuga del segmento EH, che infatti è parallelo al segmento AD, e la retta che congiunge G star con F2, punto di fuga del segmento GH, che infatti è parallelo al segmento CD. Se tutto è stato fatto con precisione, il punto H star si troverà anche sulla verticale condotta da D star, dal momento che DH è uno spigolo verticale. Determinata l'immagine prospettica dei punti della base superiore, li uniremo tra loro, in modo da ottenere l'immagine prospettica della base superiore del parallelepipedo. Se nel caso di una figura piana unire le immagini prospettiche dei punti era sufficiente per ottenerne la visione prospettica definitiva, con le figure solide dobbiamo invece preoccuparci anche degli spigoli in evidenza e degli spigoli nascosti. Nella prospettiva, noi osserviamo la figura in corrispondenza del punto di vista. Quindi, affinché l'immagine prospettica di uno spigolo sia nascosta, e quindi in linea tratteggiata, essa deve rispettare due requisiti, proprio come accadeva anche nelle proiezioni ortogonali. In primo luogo, tale spigolo deve essere interno alla visione prospettica. In secondo luogo, deve essere uno spigolo indietro e al di sotto rispetto alla posizione del punto di vista. Abbiamo così ottenuto l'immagine prospettica del nostro parallelepipedo. Prima di concludere, vi ricordo che do ripetizioni su tutti gli argomenti di disegno tecnico, sia dal vivo che soprattutto online, agli studenti delle scuole medie, superiori o universitari. Chi fosse interessato a ricevere informazioni a riguardo, tariffe, disponibilità oraria, metodi di pagamento e di svolgimento delle lezioni, può contattarmi attraverso l'indirizzo email presente qui sotto, nella descrizione del video. La trascrizione di ciascuna video-lezione di disegno tecnico presente nel canale è invece riportata nel mio blog, il cui indirizzo è aliceappunti.altervista.org.blog E non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sull'apposito pulsante. Questo permetterà al canale di crescere e mi darà l'entusiasmo necessario per caricare tanti altri nuovi video didattici. Grazie a tutti.